Io sono come il grano, quando trovo la terra buona cresco subito, ovunque amici, questa è la mia vita. Padre Graziano continua a parlare in tv e si paragona ad un germe di grano che nel terreno fertile cresce rapidamente e prosperoso. Il frate congolese, imputato di omicidio volontario, occultamento, soppressione di cadavere, ai microfoni della trasmissione La Vita Indiretta, torna a parlare ancora una volta del caso Guerrina. Non ero innamorato di lei, dice, riferendosi alla casalinga scomparsa, per me era solamente la moglie dell'uomo che mi aiutava e che poi è diventato anche un amico. Poi però aggiunge, Guerrina aveva bisogno di aiuto. Appare come sempre sereno padre Graziano, che si dice fiduciosissimo, aggiungendo, se avessi avuto paura me ne sarei andato, non avevo il divieto di espatrio. Il frate congolese lancia anche un messaggio alla casalinga di Caraffello, che secondo lui è ancora viva. Io prego che Dio la possa aiutare a prendere coscienza perché non deve far soffrire qualcuno per niente. Poi torna a parlare di quel piccolo paesino dell'Alta Val Marecchia che qualche anno fa lo aveva accolto. Mi manca Caraffello, avevo fatto molte amicizie. Alcuni paesani sono venuti anche a sostenermi nel corso del processo, non sono quello che pensate voi. Intanto è stata fissata per il 23 maggio l'udienza del Tribunale del Riesame di Firenze dopo che la Cassazione ha bocciato il provvedimento degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Saranno quindi giudici fiorentini a decidere se il religioso tornerà in carcere o potrà rimanere nel convento romano dell'ordine premostratense dove si trova attualmente.